Siamo andati tra la gente, abbiamo costruito una connessione sentimentale che è fuori controllo, ormai Napoli ha messo in moto un meccanismo di rivoluzione popolare, di rivoluzione culturale e di rivoluzione politica che non si è mai vista, se noi riusciamo ad effettuare questo trascinamento di lievito umano che consentirà di arrivare al 5 giugno a un livello talmente tale di esplosione, positiva, da portarci alla vittoria al primo turno vi assicuro che per i prossimi giorni tutti quanti avranno anche in margine o diritto a qualche giorno di decompressione. Quindi da adesso fino al 5 giugno adrenalina vulcanica allo stato puro caricatevi in modo naturale perché Napoli ne ha le potenzialità, amore, bellezze, energie, umanità, uomini, donne, femmine, trans, rimettorla. Tutti quanti hanno, tutti quanti hanno, quindi andiamo avanti, viva Napoli, viva la rivoluzione, viva il popolo, vinceremo, Napoli nel cuore sempre, vinceremo, ne sono assolutamente 100, ma al primo turno vi dovete vintare voi, che vinciamo la prima rivoluzione, al primo turno di perdere tutti i dati. Inizio al primo turno senza sé e senza ma e poi tutti quanti a festeggiare nei luoghi vintanati della nostra città. Viva Napoli, viva la rivoluzione, viva il popolo. Diamo e grazie per quello che vi avete dato in questi 5 anni. Grazie.